La guerra La guerra è finita, i nazi fascisti battuti, ma l'Italia esce estremata dalla tragica avventura. La miseria è diffusa, l'economia è inesistente, la sopravvivenza affidata agli aiuti americani. I vecchi, i pensionati, dispongono di 3.240 lire annue. Il primo governo antifascista interviene ripetutamente con diversi aumenti, ma le condizioni dei pensionati rimangono spaventosamente critiche. Nel paese si ricostruisce faticosamente un tessuto politico-democratico. L'Italia riunificata ha un nuovo governo presieduto da De Gasperi, con lui gli uomini migliori dei partiti antifascisti. L'assetto istituzionale del paese sarà definito il 2 giugno del 46, con il referendum tra monarchia e repubblica, e contemporaneamente verrà eletta l'assemblea costituente. La campagna elettorale è tesa e a volte drammatica. La partecipazione al voto è imponente. È l'espressione della libertà riconquistata. Vince la Repubblica e il re di maggio è costretto all'esilio. L'assemblea costituente elegge il capo provvisorio dello Stato, il presidente della nuova Repubblica, Enrico De Nicola. L'Italia soffre ancora di una povertà diffusa. Nel sud del paese le rivendicazioni dei contadini scatenano la reazione dei lati fondisti. La banda Giuliano, il braccio armato, spara a portella della Ginestra il 1 maggio del 1947. Di ritorno da un viaggio in America, De Gasperi rompe l'alleanza antifascista. Il 31 maggio costituisce il suo quarto gabinetto escludendo le sinistre. A giugno la CGL Unitaria celebra il suo primo congresso. È in questa assise che l'Associazione Nazionale dei Pensionati diventa FIP, Federazione Italiana dei Pensionati. La FIP terrà il suo primo congresso il 1 gennaio 1948. In essa confluiscono i pensionati di tutte le categorie. Nel paese si diffonde sempre più il clima della guerra fredda. Scelba teorizza l'uso della CELERE nei conflitti sociali. I reparti CELERE sono una specie di cavalleria motorizzata della polizia. Ed operano come opera la cavalleria. Un reparto a cavallo lanciato al caloppo contro una folla. Se il reparto è deciso a passare senza preoccuparsi che qualcuno vada a finire sotto le gambe dei cavalli, certamente passa. Ai primi di febbraio del 1948 si apre la campagna elettorale per l'elezione del primo Parlamento della Repubblica. I comitati civici la trasformeranno in una crociata ideologica. Il 18 aprile le sinistre sono sconfitte. Il 14 luglio un giovane, Antonio Pallante, spara a Togliatti. Le vicende politiche nazionali, lo sciopero generale indetto dalla CGL a seguito dell'attentato, creano i presupposti per una spaccatura all'interno della Confederazione. La corrente democristiana guidata da Emilio Pastore decide la scissione. Quando finita la fase unitaria appunto, quella che io ho definito anche nei miei studi la fase straordinaria del movimento sindacale che va dal 44 al 48, quello dell'unità, e quando finisce questa fase straordinaria legata alle contingenze della resistenza, della ricostruzione economica, al ruolo dei grandi leader come Di Vittorio, come grandi, Bozzi, eccetera, quando finisce questa fase si sostituisce la fase ordinaria della vita dell'organizzazione sindacale e in questa fase si ricostruiscono le tradizionali strutture del sindacato, le camere del lavoro prima e poi le federazioni di categoria. Tra queste appunto la federazione dei pensionati, dei lavoratori pensionati, che apparentemente sembra un po' debole rispetto ad altre categorie, che 300 mila sono gli iscritti appunto nel 49 quando si ricostituisce questo sindacato, ma che però, insomma, se la consideriamo in rapporto al numero ristretto dei lavoratori pensionati dell'epoca, erano un bel lungo. La FIP CGL, ora non più unitaria, assume la sua connotazione definitiva nel congresso del dicembre 1949 eleggendo Umberto Fiore segretario generale e Mario Berlinguer presidente. Mio padre è stato eletto alle ultime elezioni semilibere prima della dittatura fascista, 1924, caratterizzate anche da aggressioni, di violenze, imbrogli. Nelle liste dei liberal costituzionali di Giovanni Amendola, liste antifasciste naturalmente, si è opposto al fascismo durante tutto il ventennio e dopo la liberazione ha ripreso pienamente la sua attività politica. Il suo primo incarico è stato all'alto commissariato per la punizione dei diritti fascisti e per l'epurazione, dove era alto commissario aggiunto e un altro alto commissario aggiunto era Giuseppe Di Vittorio, che faceva contemporaneamente il sindacalista. Poi è stato eletto in Parlamento nelle liste del fronte democratico popolare nel 1948 e quando il partito d'azione a cui apparteneva si è sciolto ha delitto al partito socialista insieme a tanti altri, a De Martino, a Lombardi, tanti. E dal 1949 ha anche svolto una intensissima attività sindacale quale primo presidente della Federazione dei Pensionanti. Forse è stato di vittorio a proporlo. O non so quali siano stati i passaggi perché lui era molto riservato sulle questioni politiche, cosa che poi si è trasmessa ai figli. La situazione allora era terribile, la situazione dell'Italia e in particolare dei pensionati. Noi abbiamo pubblicato nella rivista Qualità Equità in occasione proprio del cinquantesimo anniversario del sindacato pensionati un manifesto pubblicato nel 1949 dalla CGL crociata di solidarietà nazionale in cui lo slogan era perché questo inverno non un italiano sia senza pane, senza pane, perché questa era la situazione. milioni di persone che non avevano di che sfamarsi. Questa massa diciamo così di lavoratori pensionati in definitiva erano i lavoratori che avevano esercitato la loro attività negli anni 30 e negli anni 40 e che dunque avevano espletato la propria attività lavorativa appunto durante il periodo fascista e poi si erano trovati appunto nelle situazioni drammatiche dell'economia della società italiana degli anni 40 la guerra e il dopoguerra. Su tutti questi lavoratori pesava una tradizionale vecchia condizione di puertà di miseria di assoluta sperequazione tra il diritto il bisogno a vivere dignitosamente e quello che in realtà era il loro reddito economico. grazie a tutti. Grazie a tutti. La federazione dei pensionati orienta la sua battaglia su due obiettivi fondamentali. Portare l'entità delle pensioni al minimo sufficiente per vivere, dare la pensione a chi non l'aveva. Oltre a ciò il sindacato assolve ad una funzione di servizio che in forme diverse è tuttora parte della sua attività. Io ricordo in particolare un fatto che mi ha colpito molto quando poi io stesso sono diventato parlamentare eletto in Sardegna, come era eletto mio padre. Cioè che mio padre riceveva centinaia e centinaia di lettere di pensionati, a cui rispondeva a tutti e si interessava delle singole pratiche di pensione. E questo nell'epoca in cui io ho fatto il parlamentare, anni 70-80, non succedeva quasi più. Mio padre diceva che queste non sono raccomandazioni, questi sono dei diritti. e io scrivo al ministro, scrivo al sottosegretario, scrivo al presidente dell'Inps, eccetera, perché questo è un diritto e chiunque si rivolge a me o a chiunque altro è il diritto di sapere, di avere quello che gli spetta. Nel bagaglio culturale e rivendicativo di questo sindacato degli anni 50, ripeto, molto forte e molto accentuato l'elemento. Aumentare la condizione economica, parificarla, perequarla, estendere i diritti sociali, la salute, l'assistenza, eccetera, all'anziano in modo da consentirgli una dignitosa collocazione nella società. Ecco, questo è il quadro degli anni 50. Tutta questa fase, che è una fase fortemente, non direi nemmeno pionieristica, ma di preparazione della riforma, perché tutti questi elementi alla fine finiscono col ruotare, già intorno al 1957-58, intorno all'intuizione che occorreste una grande riforma di tutto il sistema previdenziale. Perché ci si era resi conto che in realtà la frattura con il periodo fascista era stata meno profonda di quello che era necessario. Direi che in questo senso si entra nella seconda grande stagione della storia di questa federazione, che è quella degli anni 60. Per gli anni 50 va sottolineato ancora la fortissima carica politica che caratterizza il mondo dei pensionati. Si hanno tracce continue, evidenti, dell'interesse, del coinvolgimento dei lavoratori pensionati alle grandi questioni politiche internazionali, la pace, il dramma della guerra fredda, dello scontro tra i blocchi, la partecipazione al momento politico-elettorale, gli appelli al voto, l'orientamento e la discussione ogni volta che c'era una scelta politico-parlamentare. Nel 1952 la lotta dei pensionati si sposta a Montecitorio, mentre nel resto del paese si svolgono manifestazioni in appoggio ai parlamentari della sinistra. Si ottengono così importanti risultati sia nella perequazione dei trattamenti che sul piano economico. Il 7 giugno del 1953 sono indette le elezioni politiche. La legge truffa, voluta dalla maggioranza centrista guidata dalla DC, viene bocciata dagli elettori. La FIP, che si era impegnata nella campagna elettorale a favore dei propri candidati, esprime sul suo giornale la soddisfazione per i risultati ottenuti. Nel 1954 la FIP riprende la battaglia per l'assistenza sanitaria. A maggio dell'anno seguente la legge estende a tutti i pensionati l'assistenza sanitaria generica, specialistica e farmaceutica. Ma per il sindacato e per le forze politiche della sinistra si profila un periodo assai difficile. Alla FIAT, nelle elezioni per le commissioni interne, la CGL passa dal 63 al 36%. La difficoltà che incontra la CGL, incontra il movimento sindacale, a parte le questioni propriamente politiche, che stanno sempre sullo sfondo naturalmente, la guerra fredda, è che il movimento sindacale è rinato dopo la liberazione con una fortissima caratterizzazione generale di classe. la preoccupazione, cioè di disperdere l'attenzione, la forza dei lavoratori nelle singole situazioni aziendali, settoriali, la necessità in una situazione economica grave come quella uscita dalla guerra, la fame, la sopravvivenza come problema primo, la necessità che allora si sentiva di tenere insieme tutti i lavoratori a livello confederale, di carattere generale dell'organizzazione e di riportare a quel livello generale tutto il quadro della contrattazione. Ma questa visione di classe nel senso proprio più rigido del termine del movimento sindacale e dei suoi obiettivi è posta in crisi dalla dinamica della situazione economica. Comincia una forte ripresa produttiva, questa forza di ripresa produttiva viene incanalata anche sul cammino di nuove tecnologie, le condizioni dei lavoratori cominciano a cambiare. La CGL, ma in generale la sinistra, percepisce con molto ritardo questa novità. Fugge il dato del mutamento della situazione. Sfugge che l'economia italiana comincia a essere un'economia arretrata, ma in movimento, almeno in certi punti, in certi settori. E dove è in movimento sfugge il fatto che questo crescere dell'attività produttiva, questo organizzarsi su basi tecnologiche nuove, incide sulle condizioni del lavoro. E questo dato mette in crisi il sindacato, soprattutto dove questi cambiamenti, questa dinamica è più forte, nella grande industria del nord. Lì c'è un punto di caduta, di distacco proprio. Naturalmente parte di questo distacco è determinata dall'iniziativa padronale di discriminazione, che utilizza la guerra fredda per produrre una rottura nei confronti di parte dei lavoratori, che sono più legati alla CGL, una visione di classe del movimento sindacale, una discriminazione anche feroce. Io sono diventato segretario della FIOMI, il sindacato dei metalmeccanici a Torino, nel maggio, alla fine della primavera del 1955, e in due mesi ho visto licenziati per rappresaglia migliaia di lavoratori, la parte più attiva del sindacato, che era il sindacato fondamentale della mia città, di Torino. Valetta, in quel periodo, che fu un periodo di un rilancio della FIAT dopo la fine della guerra, coniò la distinzione negli operai della FIAT tra operai produttori e operai distruttori. e quindi, chiamiamolo tra virgolette, una ideologia, una politica tendente a eliminare dalla fabbrica o, se non eliminare, ridurre al silenzio, i cosiddetti distruttori, che per la politica valetiana erano poi quelli che mantenevano una loro fede politica sindacale e rivendicavano propri diritti. Tutti quelli confidati, nessuno si salvò. Era solo un periodo di tempo, ma tutti furono licenziati. Subita la sconfitta nel 1955, ma c'erano stati prodromi, insuccessi di scioperi e via dicendo, però la CGL ha saputo reagire. E qui io voglio ricordare due grandi figure di dirigenti della CGL. Il primo è Di Vittorio. Il Di Vittorio che pure era stato lui che veniva da un'esperienza sindacale così unitaria, così di classe come quella delle Camere del Lavoro della sua Puglia, lui che aveva dato l'impronta di questa caratteristica generale dell'iniziativa confederale, di fronte alla sconfitta, è il primo a dettare la svolta. A sottolineare che allora bisogna andare verso la contrattazione articolata, come si dice ancora oggi, cioè ad un'iniziativa sindacale che risponda nell'analisi e nella proposta alle nuove condizioni concrete che i lavoratori hanno nelle aziende. E dopo Di Vittorio novella questa figura che viene da una milizia soprattutto politica, che passa da un impegno del PC alla CGL insieme a Di Vittorio e che alla morte di Di Vittorio diventa segretario generale della CGL ed è il paladino, l'organizzatore attento, minuzioso di questa svolta. È stato così che il sindacato ha posto poi le condizioni di quello che sarà il grande sviluppo dell'iniziativa sindacale e della riorganizzazione del sindacato, i consigli di fabbrica negli anni 60 e 70. Ma l'origine è qui. 23 ottobre 1956. Scoppia la rivolta di Ungheria. È il popolo ungherese che insorge contro il governo e l'ingerenza sovietica. Imre Naghi tenta la costituzione di un governo di coalizione nell'ambito di una politica di neutralità. Il 3 novembre i sovietici invadono il paese destituendo Naghi. Lo sostituirà Janosz Kadar. I riflessi sulla sinistra italiana sono pesanti. Di Vittorio, sulla base del principio della non ingerenza nelle vicende interne di uno Stato, condanna l'intervento. Più tardi, in un comizio a Livorno, ritratterà la dichiarazione. Il 3 novembre del 57, Di Vittorio muore a Lecco dopo un convegno di attivisti della locale Camera del Lavoro. Amici, compagni, com'è bella la nostra missione. Com'è gloriosa, luminosa, affascinante la nostra missione. Noi vogliamo progredire e qualche cosa l'abbiamo fatto. Un poco abbiamo progredito. In questi anni difficili, il sindacato non è comunque mai venuto meno ai suoi compiti. La pressione in difesa della condizione dei lavoratori non è mai cessata. Nel marzo del 1958, la FIP lancia un cartello rivendicativo nel quale, al primo posto, risalta la rivendicazione della scala mobile a tutte le pensioni. Si richiede anche che il minimo sia elevato a 15.000 lire e che venga istituito per gli anziani senza pensione un assegno mensile. Gli anni 60 appunto sono stati anni nei quali tutto il lavoro, per così dire, accumulato, tutto il patrimonio di lotte, tutto il patrimonio di elaborazione messo in campo negli anni 50 che, detto proprio per inciso, io non considero affatto anni oscuri per il movimento sindacale, ma al contrario anni di grande creatività durante i quali sono state gettate buona parte delle basi della costruzione degli anni successivi. Ecco, nel decennio però, che va dal 1962 al 1969, per usare proprio delle date precise, ecco, in questi anni effettivamente sul terreno delle conquiste previdenziali si raggiunge il massimo che in qualche modo è stato possibile in tutta la storia dell'Italia repubblicana. Ma l'inizio del decennio è segnato dal punto più alto raggiunto dalla politica conservatrice e repressiva dei governi guidati dalla DC. Il 26 marzo 1960, Tambroni sostituisce segni alla guida di un governo monocolore. Ottiene la fiducia con l'appoggio del MIS e di alcuni monarchici. Nel paese esplode la protesta antifascista e la repressione poliziesca è feroce. Genova, città medaglia d'oro della resistenza, si oppone allo svolgimento del congresso del MIS. A Roma i carabinieri a cavallo caricano una manifestazione antifascista. A Reggio Emilia la polizia uccide cinque persone. Quattro morti a Palermo e Catania nel corso di uno sciopero generale. Il 19 luglio Tambroni è costretto alle dimissioni. Fanfani, alla testa di un nuovo governo monocolore, quello delle convergenze parallele, ottiene l'astensione del Partito Socialista Italiano. È il preludio ad un governo organico di centro-sinistra. L'innovazione più profonda si ha proprio agli inizi degli anni Sessanta. Anticipa il cambiamento politico, perché il cambiamento politico c'è dopo. Ma i primi segnali del fatto che il paese voleva qualcosa di nuovo si ebbero proprio nel campo sociale e nel campo dei rapporti sindacali. Basta ricordare quella formula, qualcuno se la ricorderà forse, avendo i miei anni, Natale a Piazza del Duomo, cioè la lotta degli elettromeccanici che segnò una punta molto alta e anticipò un momento di lotte che portò ai grandi contratti nel settore della metallmeccanica del 62-63. Dopo, non fu causa ed effetto, ma indubbiamente fu influenzato, avvenne il grande cambiamento politico con la formazione del primo governo di centro-sinistra. fu un cambiamento parziale, intendiamoci, fu un cambiamento all'insegna di un moderatismo che già allora era crescente, già allora portava ai segni di influenze profonde di tipo negativo, fu il momento dell'entrata dei socialisti al governo, ma anche il momento in cui immediatamente si scatenarono le forze di resistenza. Fu una resistenza che fu condotta all'insegna della formazione del governo Moro Nenni, ma che fu caratterizzata da una enorme prudenza nella effettuazione di riforme. I cambiamenti avvennero all'insegno di una grande prudenza, che furono quelli poi del periodo Moroteo, veniva chiamato così. Ci furono alcune fasi significative, ora trattando dell'argomento in parola, ricordo che lo statuto dei lavoratori cominciò allora, perché lo statuto dei lavoratori ebbe inizio, ebbe una fase di inizio, nel 1966, quando venne fatta la legge sui licenziamenti, che anticipò di gran lunga quella del 1970, che poi viene ora chiamata lo statuto dei lavoratori. Contemporaneamente si mosse tutto il campo della previdenza sociale, che è molto complesso, intricato, ma che condusse, grazie all'opera di Giacomo Brodolini, alla legge di riforma del sistema. Fu veramente una legge sistematica emanata nel 1969, che cercò di razionalizzare l'insieme dei rapporti inerenti alle aspettative di vita e di trattamento, che appunto sono quelli che riguardano la previdenza sociale. Già nel 1965, dopo imponenti manifestazioni in tutto il paese, i pensionati strappano un provvedimento legislativo, la legge 903, che aumenta in modo consistente tutte le pensioni, ma non realizza l'aggancio ai salari. La legge viene definita una riforma mancata. Nel 1966, il VII Congresso di Modena lancia un pressante appello all'unità sindacale e mette in primo piano, oltre alla riforma del sistema pensionistico, la democratizzazione degli enti previdenziali. Nel gennaio del 1968, gli studenti occupano l'Università di Torino. Il movimento si estende rapidamente in tutto il paese. Si susseguono assemblee, sgomberi forzati dalle facoltà occupate, incidenti, fino a quando il primo marzo, alla Facoltà di Architettura di Valle Giulia, 10.000 studenti romani daranno vita ad una giornata di violenti scontri con la polizia. Anche il movimento sindacale si mobilita. Le richieste dei pensionati si saldano con quelle dei lavoratori attivi. Il 7 marzo 1968, la CGL proclama da sola uno sciopero generale. Nelle fabbriche scioperano anche CISL e WILL. La lotta continuerà con altri sciopere unitari a novembre e a febbraio del 69, fino a quando, il 30 aprile, la Gazzetta Ufficiale pubblicherà la legge 153 sulla riforma pensionistica. Lavoratrici e lavoratori, italiani tutti, buon primo maggio. Buon primo maggio in primo luogo agli 8 milioni di pensionati ai quali il Parlamento ha potuto offrire ieri la definitiva approvazione della legge di riordinamento e di riforma del nostro sistema pensionistico. La riforma è una buona riforma e ci pone all'avanguardia dell'Europa civile. Avremmo voluto naturalmente fare di più. Dovremmo, appena possibile, fare di più per compiere, anche attraverso coraggiosi interventi nel settore mutualistico, il salto verso la compiuta attuazione di un moderno sistema di sicurezza sociale. A questo punto, in pratica, entriamo in una fase nella quale gli studiosi sostengono inizi il cosiddetto sistema dello Stato sociale, il sistema di welfare. Le vere e proprie leggi su cui è stata basata l'azione di uno Stato sociale si formano a partire dal 68 e culminano con la riforma sanitaria, con la legge sanitaria della seconda metà degli anni 70. Aver concentrato la costruzione di uno Stato sociale quasi esclusivamente su previdenza e sanità ha per così dire creato uno Stato sociale rigido finanziariamente che era tutto basato su una ipotesi tipica dell'epoca, anche dei migliori uomini dell'epoca, quella cioè che lo sviluppo industriale fordista fosse eterno e che dunque sarebbe sempre cresciuta l'occupazione stabile, il reddito del lavoro stabile e dunque il prelievo contributivo e fiscale dello Stato avrebbe comunque sempre potuto finanziare e compensare insieme, armonizzare insieme le politiche di assistenza. In realtà questa è stata una intuizione che è stata smentita rapidamente dagli appenimenti. si comincia con le crisi petrolifere del 73, la stagflazione degli anni 74 cioè stagnazione e inflazione insieme e poi la recessione e poi la crisi della democrazia, il terrorismo, l'attacco dei poteri occulti, tutti elementi apparentemente scollegati ma in realtà tutti collegabili, tutti collegabili in un unico quadro e cioè un quadro nel quale l'impossibilità di mantenere un finanziamento reale dello Stato sociale fa avvenire meno uno dei fattori del consenso, della coesione di massa alle istituzioni democratiche. Io qui penso con terrore a una situazione nella quale il sindacato non avesse avuto la forza, la sensibilità e la capacità che ha avuto nel integrare, nel sostenere uno Stato che si stava progressivamente privando del sostegno delle larghe masse popolari, come si chiamavano allora. Beh qui la supplenza sindacale, come la definì felicemente Gino Giugni, la supplenza sindacale è una supplenza alla democrazia, è una supplenza alla democrazia. La strategia della tensione aperta con la strage alla Banca dell'Agricoltura a Milano trova una sua espressione di massa a Reggio Calabria nell'estate del 70. Le iniziali proteste per la designazione di Catanzaro a capoluogo della regione si trasformano sotto la guida di un esponente missino, Ciccio Franco, in una vera e propria rivolta. Le violenze, gli attentati, le aggressioni ai militanti sindacali e della sinistra troveranno una risposta nelle grandi manifestazioni organizzate dalle confederazioni dei lavoratori. L'eversione nera continua. Junio Valerio Borghese è il protagonista di un tentativo abortito di colpo di Stato. A Brescia una bomba nel corso di una manifestazione sindacale a Piazza della Loggia provoca la morte di otto persone. La bomba! Aiuto! Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi! Agosto 1974. Un vagone del diretto Roma-Monaco, l'Italicus, salta in aria a San Benedetto-Valdisambro. I morti sono dodici. Il 2 agosto 1980, l'attentato alla stazione di Bologna costituirà il momento più cruento della strategia della tensione. 85 morti e 200 feriti. Al terrorismo nero in tutti questi anni si affianca uno stelicidio di attentati, sequestri, gambizzazioni, morti, provocato da organizzazioni estremiste di ultrasinistra, la più nota delle quali si firma Brigate Rosse. Viene ucciso Luigi Calabresi, commissario di polizia legato alle indagini su Piazza Fontana e alla morte misteriosa dell'anarchico Pinelli. È rapito il giudice Sossi, pubblico ministero al processo contro il gruppo 22 ottobre. Uccisi Francesco Cocco, procuratore generale a Genova, e Carlo Casalegno, vice direttore della stampa. Gambizzati Indro Montanelli, direttore del giornale Nuovo, e Vittorio Bruno, vice direttore del secolo XIX. A Roma assassinati il consigliere di Cassazione Riccardo Palma e il tenente colonnello dei carabinieri Antonio Varisco. A Genova è la volta dell'operaio comunista Guido Rossa. La lista è solo indicativa e comprende una parte esigua degli attentati. La linea del compromesso storico delineata da Berlinguer su rinascita dopo il golpe cileno, i risultati elettorali del 76, l'ingresso del partito comunista nell'area di governo, spingono le frange estremiste a intensificare la lotta alle istituzioni democratiche. Luciano Lama subirà a Roma l'aggressione di autonomia operaia. Bisogna trasformare la rabbia e la protesta in volontà politica di rinnovamento. Ma l'attacco al cuore dello Stato sarà portato un anno dopo dalle Brigate Rosse, con il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro. Qui è tutto uno sgomento generale, la notizia piombata proprio come un fulmine a ciel serino di questa 257esima seduta che doveva costituire un po' un fatto nuovo, la soluzione della crisi, invece si è annestato drammaticamente a questo fatto di Moro. Ci sono le 10, meno 10. Siamo appena arrivati sul luogo dove è avvenuto l'assalto. Ci sono molti automobili, ambulanze, infermieri, andiamo ad avvicinarci per capire meglio la macchina con i corpi di agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro. Dopo 55 giorni di sequestro, Moro è ucciso il 9 maggio 1978. In quegli anni, proprio per le spinte ribellistiche che circolavano in larghi strati della società italiana e non soltanto nella classe lavoratrice, noi avevamo qualche problema. Furono molto rari, è vero, e tuttavia ci furono dei sentimenti di simpatia verso le iniziative eversive terroristiche. Furono più frequenti, anche se notevolmente minoritari, i casi di neutralità di fronte a queste iniziative. I primi si rifacevano al concetto lo Stato borghese si abbatte e non si cambia, i secondi al criterio né con le Brigate Rosse né con lo Stato. Noi conducemmo una iniziativa calzante per smantellare queste posizioni e riuscimmo a costruire un grande movimento che investì la stragrande maggioranza dei lavoratori e della società italiana in una iniziativa positiva a difesa della vita democratica del Paese e delle sue istituzioni. Questo è un primo gruppo di questioni enormi che vennero dal sindacato affrontate in quei decenni e che marcarono una consistente crescita politica e morale del sindacato stesso. Il delinearsi di una prima crisi economica, quella che derivava dalla crisi energetica, scoppiata, se ricordo bene, nel 1973. Ecco, anche durante questo periodo e anche dopo, l'iniziativa rivendicativa del sindacato non venne meno e si proiettò anche sull'altro terreno, quello della società, affrontando i problemi della casa, dei trasporti, delle tariffe, fino alle questioni guardanti i diritti e la società civile. Cito un esempio per tutti. La campagna del 1974 e il suo successo per il divorzio, l'introduzione del divorzio nel nostro Paese. E ancora il successo delle sinistre nelle elezioni amministrative del 1975, con la conquista di una serie di importantissimi capoluoghi del nostro Paese. E poi l'avanzata nelle successive elezioni politiche del Partito Comunista, che segnò l'ingresso suo nella maggioranza governativa attraverso la costituzione del governo di unità nazionale. Fuono questioni che posero dei problemi nuovi a tutto il movimento sindacale, in quest'ultimo caso, in particolare alla CGL. Ricordo un fatto, quando venne elaborata la linea dell'euro e dei dieci punti, fu un oggetto di un attacco ispirato, io credo, dall'esterno del movimento sindacale, da coloro che tentavano di impedire questo assestamento comunista nell'area di direzione del Paese, fu un oggetto di un attacco violento. La gente ci accusava del fatto che predicassimo una sorta di via francescana alla povertà. I risultati furono diversi, proprio grazie anche a quella linea, all'iniziativa con la quale il sindacato la sostenne, l'Italia fu allora l'unico Paese del mondo che riuscì a realizzare tre obiettivi, tutte e tre insieme, le cose che non si è verificate in nessun altro angolo della terra, e cioè l'aumento dell'occupazione, la riduzione dell'inflazione e l'aumento dei salari reali. Le lotte e i risultati ottenuti dalla FIP sono complementari e in sintonia con quelli realizzati dalle confederazioni. La richiesta dell'aggancio del minimo di pensione al salario medio di un operaio dell'industria viene accolto nel marzo del 1974. Dal primo gennaio del 1976 scatta invece l'adeguamento del massimo di pensione all'80% del salario. A maggio del 1977, nel suo decimo congresso, la FIP diventa SPI e lancia la proposta a CISL e UIL di costituire una federazione unitaria. Il 28 dicembre 1978, dopo lunghe e intense battaglie, viene varata dal Parlamento la riforma sanitaria. Nella storia dello SPI la fine degli anni 70 costituiscono un grande punto di svolta. Le conquiste degli anni 60 rafforzano notevolmente il sindacato pensionati, aumenta progressivamente il numero degli iscritti. Alla fine degli anni 70 il sindacato pensionati già si delinea come la più grande federazione, il più grande sindacato di categoria, diciamo così, della storia del sindacato italiano. Mantenendo una caratteristica che era quella originaria, non è un sindacato corporativo. Il sindacato pensionati è un sindacato generale. Vi è una presa di coscienza del gruppo dirigente, diciamo del nuovo gruppo dirigente del sindacato pensionati, che si traduce in questa formulazione, il passaggio dalla rivendicazione, dal controllo nell'applicazione della legge al protagonismo. E' il protagonismo che consente di passare dalla figura del pensionato come ex lavoratore alla figura invece del pensionato come soggetto di relazioni sociali. La difesa del potere di acquisto, il riordino della previdenza, la qualità delle prestazioni sanitarie e assistenziali sono ancora alla base della lotta dei pensionati. A San Giovanni, in un'imponente manifestazione, Lama esordisce con una frase di Di Vittorio. La civiltà di un paese si misura dal modo come in esso vivono i bimbi e i vecchi. Ebbene, se dobbiamo giudicare la civiltà dell'Italia da questi segnali, bisogna dire che per gli antiani non siamo ancora quel paese civile che dovremmo essere. I cartelli che i pensionati innalzano in folti presidi organizzati davanti a Parazzo Chigi, a Montecitorio, parlano di trimestralizzazione della scala mobile, contro etichete sui medicinali e l'aumento delle tariffe pubbliche, contro l'evasione contributiva, per la perequazione dei trattamenti pensionistici nei settori pubblico e privato, per la separazione tra previdenza e assistenza. Temi che, in buona parte, continueranno a essere alla base delle lotte dei pensionati per tutto il decennio. negli anni Ottanta noi avevamo sicuramente l'attenzione già fissata su questioni essenziali dello Stato Sociale. Nel campo sanitario noi avevamo una legge di riforma fatta due anni prima che andava applicata, innovativa, perché stabiliva il dritto generalizzato del cittadino e stabiliva un principio fondamentale che la sanità era fatta di prevenzione, cura e riabilitazione. Applicare una legge di questo genere equivaleva a continuare l'azione riformativa in campo sanitario. Di qui l'attenzione al problema sanitario, non solo in chiave di anziani, ma anche in chiave più generale. inoltre la premessa sanitaria favoriva una ripresa dell'azione in campo assistenziale. Noi nel campo assistenziale siamo stati per tutto questo secolo, quasi tutto questo secolo, governati sulla base di una legge fatta dal governo CRISPR nel 1995 che è stata cambiata qualche anno fa, poco tempo fa. Quindi che prevedeva un'assistenza essenzialmente monetaria e clientelare gestita dai prefetti in nome delle forze che governavano e per le forze che governavano. Quindi noi che avevamo bisogno non solo come anziani di iniziative nel campo dei servizi sociali e molto spesso anche in alternativa all'assistenza monetaria, e dovevamo quindi collegare i due fatti la sanità e l'assistenza e dedicarsi a quel settore che chiamiamo socio-sanitario. Bisogna dire che noi non avevamo contrattazione territoriale a livello comunale e regionale, che avevamo bilanci locali a questi livelli che non avevano alcuna voce che riguardasse la popolazione anziana e quindi abbiamo la prima richiesta per esempio che fu fatta fu di mettere a bilancio lo 0,50% per affrontare i problemi socio-economici che spettavano a quel livello alle amministrazioni locali. E poi c'era la questione delle pensioni di cui si discute molto anche oggi. Nel 69 è stata fatta una legge innovativa per i lavoratori dipendenti da privati e era considerata dalle confederazioni l'inizio per una riforma più generale che riguardasse tutti i settori della presidenza e poi abbiamo avuto un'inflazione a due cifre per molti anni e quindi avevamo un problema di difendere il potere d'acquisto non solo dei salari ma anche delle pensioni questa era la piattaforma su cui ci si è mossi essenzialmente negli anni 80 non solo in nome dei pensionati quindi ma in nome anche di rivendicazioni e valori di ordine più generale. Gli anni 80 sono anni difficili ai lutti provocati dal terrorismo nero a Bologna si aggiungono le tremende conseguenze del terremoto in Irpinia 6.000 morti 10.000 feriti 300.000 senza tetto i soccorsi giungono tardi e appaiono inadeguati il presidente Pertini dopo una visita nelle zone terremotate esprimerà pesanti critiche al governo qualche giorno dopo Berlinguer rilanciando con forza la questione morale abbandona l'idea del compromesso storico a favore dell'alternativa democratica il 4 agosto dell'83 Craxi forma il primo governo a guida socialista è la conclusione di un lungo processo politico di divaricazione tra le forze di sinistra il 14 febbraio 84 il governo interviene con un decreto tagliando parte della contingenza il 24 marzo un'imponente manifestazione di protesta si svolgerà a Roma indetta dalla sola CGL il 7 giugno a Padova nel corso di un comizio per le elezioni europee Berlinguer è colto da un malore morirà 4 giorni dopo piazza San Giovanni è ancora gremita 2 milioni di persone partecipano al funerale di Enrico Berlinguer a Roma c'è anche Garbaciov che circa un anno dopo succederà a Cernienko nella guida dell'Unione Sovietica negli anni che seguono i termini perestroica e glasnos entreranno nel vocabolario politico un tentativo di introdurre elementi di democrazia e di trasparenza in un regime irriformabile nel corso del 1989 in pochi mesi il sistema degli stati del socialismo reale verrà abbattuto l'Ungheria per prima procederà a smantellare la cortina di ferro e i tedeschi dell'est troveranno così un varco per emigrare in occidente fino a quando il 9 novembre verrà abbattuto il muro di Berlino in Italia il segretario del PC Achille Occhetto lancia un appello a tutte le forze progressiste per dar vita a un nuovo partito è l'inizio della crisi della prima repubblica il mondo del lavoro occupato ha le prese con il passaggio al post-fordismo ha i suoi grossi e gravi problemi e quindi per alcuni versi è un po' chiuso in se stesso che ha le prese con questo difficilissimo problema il mondo politico ha le prese con un problema ancora più grande la fine del comunismo il crollo dell'Unione Sovietica i grandi passaggi epocali le svolte interne alle stesse forze di sinistra italiane e quindi anche lì è un dibattito molto importante ma se volete per alcuni versi è un dibattito interno a un ceto mentre invece da questo mondo diciamo tra virgolette libero il mondo espresso dalla società appunto i giovani le donne il mondo dei pensionati vengono degli input delle intuizioni delle riflessioni più aperte che rompono questi schemi e aiutano molto a entrare negli anni 90 con una consapevolezza diversa a me piace considerare il mondo del lavoro pensionato in questa transizione come una parte di questo mondo diffuso che riflette esprime cerca queste nuove strade e che poi alla fine negli anni 90 dà delle indicazioni che sono quelle a cui appunto poi il sindacato si è appigliato saldamente quando ha dovuto affrontare la questione della ridisegnare il nuovo welfare il nuovo stato sociale le nuove regole i nuovi patti tra le generazioni beh lì ci siamo trovati di fronte un interlocutore vero il mondo del lavoro pensionato non si era disgregato non si era rotto non era andato a ramengo al contrario aveva un sindacato fortissimo una grande solidità organizzativa e finanziaria che sono cose non irrilevanti aveva un gruppo dirigente fortemente integrato nel gruppo dirigente confederale quindi autorevole riconosciuto e aveva in qualche modo posto la questione come deve essere il mondo del lavoro e del non lavoro dopo il fordismo dando un'indicazione e l'indicazione era ci vogliono nuovi parametri uno di questi parametri deve essere il rapporto con la qualità della vita del lavoro del sistema circostante la carta dei diritti dell'anziano elaborata dallo SPI nel convegno sulla riforma dello stato sociale costituisce la base rivendicativa del sindacato per i primi anni 90 la sua realizzazione presuppone un rapporto fecondo con le istituzioni a tutti i livelli cosa non sempre agevole in un momento di forte crisi politica economica e morale del paese ad aprile del 92 si vota e il risultato mette in crisi la centralità della DC la Lega è il principale artefice del terremoto Amato presiede il nuovo governo e Scalfaro viene eletto al seggio più alto in autunno arriva la finanziaria e i pensionati tornano in piazza per difendere il loro potere di acquisto l'insanamento si può fare azzerando le conquiste sociali e i diritti oppure salvaguardando i diritti fondamentali e le conquiste fondamentali cercando di fare delle riforme è su questo punto che c'è stato conflitto e sono state anche delle lotte su questo punto credo che i sindacati dei pensionati insieme alle confederazioni abbiano dimostrato l'esigenza di sanare le ingiustizie più gravi che c'erano in campo pensionistico e per questo abbiamo fatto delle grandi lotte all'inizio non comprese pienamente da tutti ma successivamente si è capito il senso delle nostre lotte che non è un obiettivo contrapposto al risanamento ma è per dare un segno al risanamento un segno che ha comportato l'esigenza di trovare in altre strade diciamo così il risanamento stesso e quindi affrontare il tema sulle riforme poi certamente anche i sindacati pensionati non si sono mai tirati indietro rispetto a eliminare alcuni privilegi che in certi settori delle pensioni c'erano in parte o in gran parte sono stati eliminati anche successivamente ma si è vista l'esigenza di fare delle grandi manifestazioni non solo per la difesa delle conquiste in senso però innovativo ma soprattutto per indicare una strada nuova questo è il senso allora una strada nuova nel settore della previdenza della sanità dell'assistenza devo ricordare che per primi abbiamo proposto una legge di iniziativa popolare sulla riforma dell'assistenza quindi siamo sempre stati presenti nel campo sociale con proposti innovative come contributo e come partecipazione nel 93 l'assemblea dei quadri precisa il percorso politico che fa delle economie sociali già indicate da Delors uno strumento di rilancio e di sviluppo di una società più giusta e la base su cui costruire il nuovo stato sociale in questo quadro si colloca a maggio il congresso costitutivo della FERPA la federazione europea dei pensionati e degli anziani in Italia ora governa Ciampi con un programma sostenuto anche dalle sinistre a luglio CGL Cisle e Will raggiungono l'accordo sulla politica dei redditi il 1994 si apre con una grande incertezza politica in vista delle elezioni gli schieramenti non sono ancora ben definiti scende in campo Berlusconi per i pensionati e non solo per loro si acquisce la prospettiva di un attacco allo stato sociale comincia la campagna elettorale e piovono le promesse facili Berlusconi assicura un milione e mezzo di posti di lavoro meno tasse garanzie per i pensionati così vince le elezioni ma subito prende corpo il disegno di dissoluzione dello stato sociale anche la resistenza da cui è nata la costituzione viene messa in discussione la costituzione non ci tocca l'Italia popolare è qui che è lotta la costituzione non ci tocca nello SPI a seguito dell'elezione alla camera di Gianfranco Rastrelli la direzione è affidata a Raffaele Minelli segretario generale e a Francesco Più vice segretario generale chiediamo questa volta una profonda riforma dell'intervento assistenziale in questo caso lo chiediamo non con una piattaforma ma raccogliendo le firme per una legge di iniziativa popolare sulla quale certamente vogliamo aprire una fase di grande confronto sul modello di stato sociale del nostro paese tra la gente e con le istituzioni in tutto il paese si avvia una campagna di controinformazione sul sistema previdenziale e si raccolgono le firme per una legge di iniziativa popolare che porti alla separazione tra previdenza e assistenza e che attribuisca un assegno minimo agli anziani privi di reddito dopo le bufere di luglio e agosto sulla giustizia sulla RAI sulla Banca d'Italia il 28 settembre il governo approva la finanziaria che taglia le pensioni e pretende di sottrarre la riforma della previdenza ad un serio dibattito nel Parlamento e nel paese comincia un difficile confronto con le parti sociali ma le proposte dei sindacati vengono respinte non resta che il ricorso alla lotta è il momento delle grandi manifestazioni di ottobre e novembre 7 ottobre le nonne e le zie protestano davanti a Palazzo Chigi 14 ottobre sciopero generale più di 3 milioni di persone manifestano nelle piazze d'Italia per Berlusconi vuol dire che molti di più hanno lavorato 27 ottobre i sindacati dei pensionati consegnano 200.000 firme in calce alla proposta di legge di iniziativa popolare sull'assistenza 12 novembre a Roma un milione e mezzo di manifestanti occupa la città e le sue piazze il primo dicembre alla vigilia di un secondo sciopero generale il governo accetta di rinviare la riforma della previdenza ad un disegno di legge da discutere entro il prossimo giugno è di fatto lo straccio chiesto dai sindacati il 20 dicembre il Parlamento approva il nuovo testo della finanziaria il 21 dicembre a Riccione lo SPI riunisce i quadri del sindacato si arriva così proprio la vigilia di un altro sciopero generale annunciato per il 2 dicembre alla capitolazione del governo una resa quella sancita dall'intesa che rappresenta anche la sconfitta del segno siamo usciti a limitare molto i danni siamo usciti a difendere secondo noi con caparbietà e in uno stretto rapporto con i lavoratori e i giovani alcune caratteristiche fondanti di un sistema sociale eco difendere la scala mobile cercare di ottenere il mantenimento di diritti acquisiti come la rivoluzione delle vecchie pensioni ci sembrano veramente obiettivi compatibili non irrazionali non corporativi a fine settembre i nostri iscritti erano 2.758.397 la crisi del governo Berlusconi porta alla formazione di un governo tecnico appoggiato da uno schieramento che va dalla Lega al PDS lo presiede Lamberto Dini nel programma solo quattro punti tra cui la riforma della previdenza sulla proposta di riforma elaborata dal movimento sindacale si sviluppa un'intensa trattativa il 27 maggio sindacati e governo firmano l'intesa sulla riforma si avvia in tutto il paese una consultazione di massa si dibatte nei luoghi di lavoro nelle sedi sindacali e si chiedono informazioni e chiarimenti attraverso linee verdi installate nelle sedi confederali la consultazione si conclude con una sensibile maggioranza pavorevole all'accordo e l'8 agosto viene promulgata la legge 335 che riforma il sistema pensionistico il 21 aprile segna una svolta nella storia della Repubblica l'ulivo vince le elezioni per la prima volta la sinistra assieme ad altre forze laiche e cattoliche governa l'Italia lo SPI come tutta la CGL si avvia alla verifica congressuale a Fiuggi si celebra il quindicesimo congresso dello SPI 939 delegati in rappresentanza di 2 milioni 800 mila iscritti il 18% dell'intera popolazione anziana del nostro paese indicano la linea politica e rivendicativa del sindacato per i prossimi anni Raffaele Minelli viene riconfermato segretario generale dello SPI il nostro sindacato come abbiamo visto si è sempre contraddistinto per la sua voglia di essere protagonista sociale del cambiamento noi è in questa direzione che dovremo continuare per affrontare grandi cambiamenti e affrontarli in una fase storica in cui la velocità del mutamento è sicuramente più alta di quella che ha caratterizzato le epoche precedenti è fondamentale definire le nuove reti di protezione sociale in grado di garantire la capacità di difesa dall'esclusione dei processi di esclusione l'esclusione più dolorosa è quella dal lavoro e non a caso per noi la lotta per l'occupazione è al primo punto l'esclusione si caratterizza anche per gli interventi incisivi contro la povertà una povertà che nel nostro paese purtroppo negli ultimi anni è cresciuta e che è povertà che si concentra essenzialmente nel nostro paese nell'area del mezzogiorno tra gli anziani e purtroppo anche tra le anziane sole che costituiscono all'interno del pianeta della povertà un insieme particolarmente a disagio abbiamo messo al centro la nostra attenzione lo sviluppo delle economie sociali come elemento che deve sempre più caratterizzare la qualità sociale come elemento essenziale da mettere insieme a fianco dei settori produttivi siamo quindi un soggetto fortemente proteso verso il cambiamento non siamo un soggetto conservatore pensiamo che il processo di riforma debba caratterizzarsi per l'ancoraggio di alcuni valori la solidarietà tra le generazioni il rapporto forte il vincolo forte all'interesse non tanto della produzione in quanto tale ma della produzione in quanto funzionale allo sviluppo della qualità sociale e agli interventi tendenti appunto a aumentare la coesione sociale del nostro paese il 29 maggio 1998 in Campidoglio si aprono le celebrazioni per il cinquantesimo dello SPI non è un atto formale è la manifestazione di un impegno che nel ricordo del passato si proietta nel futuro grazie grazie a tutti